Arte, cultura ed enogastronomia farnese saranno in vetrina alla Borsa Internazionale del Turismo, la grande vetrina di richiamo internazionale che raccoglie operatori turistici di tutto il mondo. Saranno presenti circa 200 operatori, 136 paesi, una vetrina veramente importante per i campi, per promuovere il territorio, i suoi prodotti, i suoi tesori artistici e culturali. Quindi saremo sulla prossima settimana, avremo una serie di incontri, conferme stampe con tanti operatori, appunto per far conoscere i campi e i suoi tesori. Su cosa punterete principalmente? Allora, noi logicamente abbiamo sia monumenti molto importanti da far conoscere, soprattutto la Scala Santa, ma tante altre opere importanti. Voglio ricordare tra l'altro che un'opera sarà presente anche all'Expo, al Padiglione Cultura, così come ci ha detto il professor Sgarbi, quando è stato ospite presso il nostro paese. Poi i prodotti inodastronomici principali da promuovere, quindi il tutto per creare un indotto a campi anche a livello occupazionale. Proietteremo video sul nostro patrimonio artistico e culturale e renderemo gadget ed omaggio a tutti coloro che faranno visita al nostro stand. All'interno dello stand sarà ospite anche il comune di Castelli. Mi fa molto piacere di questa coesione, di questa unità di intenti, perché tra l'altro abbiamo anche dei trascorsi storici. Siamo dei territori che sono stati affidati da Carlo V alle famiglie a Larsoni, Mendoza, a Castelli e soprattutto a Campi, ai Farnese. Quindi, insomma, questa storia che ci unisce ci vede in questa occasione veramente uniti, quindi questo segno veramente importante che vogliamo dare ai territori e alle nostre popolazioni.